Buonasera a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Parliamolo Insieme, il talk di Italia Felix TV. Qualche settimana fa andai a Rocca Monfina ad intervistarti. Quel giorno venni proprio nella tua azienda di famiglia, Vicenza Sacchetta. È stato un grande piacere. L'operaio edile più famoso d'Italia ormai, lo possiamo dire? Con milioni di visualizzazioni su TikTok. Sempre con massimo rispetto per tutto il popolo e sempre con umiltà. Un personaggio che attraverso l'allegria ci fa capire quanto sia importante il lavoro, vero? E ci fa variare. E ci fa variare soprattutto. Quindi allegria e lavoro. È difficile far sposare il lavoro con l'allegria. Chi è che va a lavorare con l'allegria? Solo Vicenza Sacchetta. Solo Vicenza Sacchetta. L'unico in Italia. Ma che già la vita è amara. Poi, capite? Noi dobbiamo essere allegri. Stasera c'è un po' di gente. Io ringrazio tutti. Vicenza Sacchetta. Ormai il tuo nome l'abbiamo pubblicato. Si chiama Vincenzo Imparato. È meglio noto, quindi con il nome di Vicenza Sacchetta. 21 anni di Rocca Monfina. Sì. È proprio sui 21 anni, no? Io ho letto un po' di commenti su TikTok. Oggi scendiamo un po' nella tua intimità. Ma come no? Nei dettagli un po' più, diciamo, che noi abbiamo sentito la volta scorsa. Facite tutto quello che ha voluto. Tutto quello che vorrei. Grazie. Ormai... Su TikTok molti si stupivano della tua età. Sembravi più grande, dicevano molti commenti. Ma tu credi davvero di sembrare un po' più grande? Come rispondi a queste persone? Mi hanno detto 40 anni. Ma perché per il popolo sono più grande di età. Perché mi verono che i capelli bianchi. Anche io li ho letti. E gli dicevano come vicino alla sacchetta da la televisione a me i capelli bianchi. E io gli ho risposto che le sue sacchette. Ah, ecco, ecco. E quindi, però... Tu hai raccontato che l'idea del personaggio ti è venuto da una sacchetta che ti è caduta in testa. Non è molto plausibile, dai. C'era una piccola strategia, un consiglio per avere successo, per arrivare a farti conoscere. No, nessuna piccola strategia. È stata proprio così. Quindi una sacchetta da lato. E tu devi calcolare che quel giorno mi stavo ribaltando con il muletto. Addirittura. Quel 26 agosto, quando dedicai quel video alla Meloni, che ebbe molto successo. Eh, ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo. E chi se lo scorda. Poi, da quel video, tanti tanti altri, poi si è arrivato a Mediaset. Eh, è stata una bellissima esperienza. Eh, ci credo, ci credo. Stare con Bonolis, Laurenti, grandi personaggi della televisione, è stato veramente bene. Però Mediaset, diciamo, è venuta dopo. C'è stato prima il Peppi Knight, no? Sì, sì. Contattato da Peppe Iodice. Sì, sì, sul Canale 21. Quel giorno, allora, praticamente, mi arrivavano solo messaggi che dicevano, vedi che ti cerca la televisione. E mi ha detto, ma veramente state facendo? E io non ci credevo. E arrivò un giornalista di Rocca Monfina, perché il manager di Peppe Iodice, era amico di uno, di Antonio Migliozzi, un giornalista di Rocca Monfina, che venne nel mio negozio e disse, vedi che ti cerca il cabarettista Peppe Iodice per la sua trasmissione, per varie puntate della sua trasmissione. Da lì poi è nata la trasmissione con il Peppi Knight. Sono stato 14 puntate. Grande puntatone al Palapartenope con oltre 4.000 persone. È stata veramente bella. Poi sei arrivato a Medeset e il momento in cui a Ciao Darwin ti hanno conosciuto di più è stato Il Viaggio nel Tempo. Lì ha dato il meglio. Qualcuno se lo ricorda, penso, Il Suo Viaggio nel Tempo. Chi è Cannavis? Soprattutto da Quel Viaggio nel Tempo io sono rimasto un po' sulla domanda di Bonolis. Cosa ti procurano le donne? Sentimenti e emozioni. Sentimenti ed emozioni. Ma oggi vorrei che tu approfondissi questa frase. Innanzitutto sei fidanzato. No, non sono fidanzato, però in questo dopo... Con la sacchetta sei fidanzato. Però dopo Paolo Bonolis sono amato da tante donne. Ah. Io so, voi avete a sette... Ma tu ci credi nell'amore? Io ci credo. E quanto è importante il sesso in una storia d'amore per Vicenza Sacchetta? Ma molto importante, per carità, però in questi casi non lo so. Non lo sai? Non lo so perché c'è chi approfitta del momento. Tu sei giovanissimo, sogni un matrimonio, dei figli, una famiglia... Come no, come no, come no. Come no. Farli lavorare nella mia attività perché comunque oltre a tutto il successo... Dei piccoli sacchettini. Dei piccoli sacchettini. Al di là di tutto quello che sto facendo sui social, perché è molto bello relazionare con tutte le persone, non chiudersi in se stesso perché ci stanno parecchie persone che come vanno in una trasmissione televisiva subito si credono che hanno fatto. No, siamo stati in una trasmissione molto conosciuta, molto seguita. Abbiamo dato il nostro meglio e ci stiamo godendo il momento. Recentemente hai fatto un video dove rispondevi ad una critica, uno che diceva ti hanno fatto diventare un mito. Dedicavo un video a me che diceva avete fatto diventare un mito Vicenza Sacchetti. Quindi io da questo video ho preso spunto e sono andato a cercare i commenti, le critiche che ti hanno fatto per darti stasera la possibilità di rispondere a questa gente. Ti va di rispondere? Ma come no? Ne ha scelte qualcuna? Vai. Allora, uno scrive, mi sa che la sacchetta non la porti tanto, mi sa che porti più la forchetta. No, no. La sacchetta la porto eppure tanto, amico mio. La forchetta pure la porto. Un po', un po', un po'. Senza la forchetta non hai la forza per alzare la sacchetta. Eh, facciamo metà e metà. Mi pare giusto. Metà e metà facciamo. Un altro scrive, ma perché ridi solo tu? Nel senso, fa riferimento alla tua classica risata che chiude un video. Eh perché quella è quella che fa rirare la gente. Quindi quella è. È contagiosa. È la firma. È la firma Vicenza Sacchetti. Esatto. È contagiosa, capi? Un altro invece, Vici, c'è stangato, tu e Ocean Man. Eh, non gli piace Ocean Man, no. Un altro invece, ma fai piangere più che ridere. Secondo te è vero? No. E perché ti dicono questo secondo te? È perché sono in video. È gelosia. Solo gelosia. In video è gelosia. Un altro invece, come si fa a seguire costui? Siamo alla frutta. Eh non lo so. Alla gente piace. Perché piace? Perché oggi diciamo. Perché Vicenza Sacchetti piace? È perché lancio un messaggio positivo. Perché ho lanciato un messaggio al popolo e nessuno si aspettava che io lanciassi un messaggio. Perché noi lavoratori edili siamo sottovalutati. Perché noi lavoratori edili lavoriamo tantissimo. Io ho un'azienda di famiglia, come ho detto nei miei video. Lavoro tutti i giorni, ma la gente non lo capisce il lavoro che fa Vicenza Sacchetti. Per la gente Vicenza Sacchetti in questo momento è uno che va nelle piazze, che va nelle televisioni, che va nei teatri. Però viene sottovalutato. Parecchi dicono che non lavora. Io sono il primo a lavorare. Io la mattina alle sette e mezza vado ad aprire io e mio fratello nella nostra azienda di famiglia e continuo a lavorare. Perché ho preso questa decisione. Perché se Vicenza Sacchetti oggi è diventato un personaggio noto al pubblico è per la Sacchetti. La Sacchetti è salita nel nostro magazzino e quindi io la vado ad alzare tutti i giorni. Sicuramente. Tu sei anche un appassionato di calcio, di Finapoli. Come no? Si è stato invitato in tanti programmi sportivi. Ultimamente. Che pensi di questo Napoli? Allora, l'anno scorso è stata un'ottima stagione, devo dire la verità. Abbiamo fatto un ottimo campionato. Abbiamo fatto veramente una stagione che chi sa aspettava. Il pubblico dice ora ci vogliono altri 33 anni per rivincere lo scudetto. Ma io non ci credo perché questo Napoli in questo momento mi ispira sentimenti e emozioni di nuovo come le donne. Come le donne. Come le donne. L'anno scorso è stata sì, è una stagione che nessuno si aspettava. Quest'anno abbiamo fatto un po' fatica. Abbiamo avuto momenti sì, momenti no. È stata una stagione al 50%. Noi a Mondragone abbiamo un altro fenomeno TikTok che è anche lui salito su questo palco. Lo spazzino ballerino. Lo conosci? Sì, sì. Ho seguito alcuni video su TikTok. Che ne pensi? No, no. Anche lui ha voluto far vedere il suo personaggio alle persone. Perché parliamoci chiaro, tutti quanti si fanno pubblicità dei locali, cioè parecchi tiktoker si sono creati su questo TikTok che gli ha dato molta visibilità. Perché se Vicenza Sacchetto oggi è andato in televisione è anche grazie a TikTok e grazie alle trasmissioni che sta partecipando. Cioè TikTok è stato il mio trampolino. Da un punto di vista siete anche simili, tu e lo spazzino ballerino, perché tutti e due fate passare un messaggio del lavoro che va vissuto con felicità. Non trovi? Come no, come no. E noi dobbiamo trasmettere ogni giorno felicità, perché oggi la gente ha bisogno di sorridere, la gente è stanga sempre di stesse cose, stanno divertendo. E la sacchetta è la strada giusta. E la sacchetta è la strada giusta. Senti, adesso ti faccio dei nomi e tu mi dici cosa rappresentano per la tua vita. Dimmi. Allora, Paolo Bonolis. Paolo Bonolis è stato veramente un grande piacere far conoscere il mio personaggio a lui. Perché quando feci il dibattito non mi sarei mai aspettato la frase che diceva, io mi sono innamorato. Eh, mi ricordo. Ti ricordi, ti ricordi quando la gente non mi fece parlare, perché poi quella sera diventai l'idolo di tutti. Paolo Bonolis è una grande cultura, una grande persona, un grande della nostra storia della televisione. Peppe Iodici. Peppe Iodici è, diciamo, che è stato una delle mie prime esperienze in TV e mi ha dato molta visibilità. Peppi Knight è stato il mio trambolino di lancio e lo ringrazio perché ha voluto me, la mia persona. Sono a Napoli, sono stato 13 volte a Teatro Troisi e una volta al Palapartenope, ma lo ringrazio perché mi ha fatto crescere, perché mi ha dato molta visibilità e perché mi ha voluto bene dal primo momento. Cioè mi teneva come un figlio, ogni volta che andavo lì a Napoli tutte le settimane, tutti i lunedì, mi teneva come un figlio. Prima di iniziare la trasmissione scherzavamo, ritevamo, ma non solo con lui, si è creata una bellissima famiglia. A proposito di figlio, ieri è stata la festa del papà, qui sono una foto commovente. Quindi in questa lista di persone importanti io aggiungerei Angelo Imparato, alias Angiolette Asacchetti, che vediamo lì in sala, lo salutiamo. Facciamo anche il nostro spettacolo Pausa Pranzo, che lo stiamo portando un po' dappertutto. Sì, l'ho visto. Lo ringrazio perché è un papà meraviglioso, ho una famiglia meravigliosa, mia madre, i miei due fratelli che mi vogliono bene. Meramente sono contento della famiglia che ho, che mi sta dando molti insegnamenti e mi stanno sempre vicino. Più che una persona, adesso mi piacerebbe sapere il tuo paese, come ti accoglie. Sei amato, sei odiato, nemmo profeta in patria, insomma. Sono amato, sono amato. Pensa, la sera della puntata Canale 5 erano tutti in attesa. Erano tutti in attesa e sono stati tutti davanti al televisore. Non ti aspetti mai, non ti aspetti mai che una popolazione come Rocca Monfina ti stanno tutti vicino. È stato veramente un grande piacere, Rocca Monfina mi vuole bene perché quando si parla di Rocca Monfina ora si parla di Vicenza Sacchetti, il paese di Vicenza Sacchetti. Dopo la Castagna. Dopo la Castagna. C'è la Sacchetta. Eh, e questa per me è stata una soddisfazione. Perché quando vanno in giro i miei paesani dicono ma tu di dove sei? Di Rocca Monfina, il paese di Vicenza Sacchetti. Ah, dritto. Ormai sei più famoso della Sagra. Ma in questo momento sì, dopo Canale 5 è successo. E di Mondragone che pensi? L'hai fatto un giro per Mondragone? Mondragone è bella cittadina. Ah, mozzarella assaggiata. A mozzarella. Non ancora. Come no, come no. Ormai la mozzarella è qui a Mondragone, è la regina della mozzarella. Eh certo. Va bene, io con questo ti ringrazio. Ma io ringrazio voi. Ti auguro di andare sempre più in alto. Ma io vi... Un programma tutto tuo, un film tutto tuo. Ma... Mi stanno chiamando per... Ah. Stanno vari produttori, varie cose stanno... Vogliono fare un incontro con me, vediamo. Che... Che dicono? Magari ti vedremo su questo schermo. Come no? Sarebbe veramente una cosa bella. Apriamo e ti vediamo. Sarebbe veramente una cosa bella. Magari. Però sempre con massima umiltà. Perché tutto questo, io lo dico sempre, tutto quello che mi sta accadendo ora può finire. Pensa, a me già mi stanno chiamando per l'estate ora. Cioè tu devi sapere che dopo Canale 5 si è creata una grande atmosfera attorno al mio personaggio. Mi stanno chiamando dappertutto battesimi, comunioni, dappertutto veramente. Ma questa è una grande soddisfazione per me. Perché sto... Il mio personaggio sta piacendo molto. Ma non solo ai bambini, a quelli dell'età mia. Sta piacendo anche agli aziari. E almeno li facciamo risuscitare voi. Grazie. Ringrazio anche voi in sala che siete venuti. Veramente grazie a tutti. Speriamo che saremo sempre di più. Questa è appena la nostra quarta puntata. Stai facendo questo bellissimo format. Mi fa piacere. Ringrazio. Vi ringraziamo a tutti voi che siete stati qua. E grazie alla vicenda a Sacchetti. Grazie. Allora un giorno mi vende una ragazza vicino. E c'è vicino a Sacchetti. Ma tu lo sai che mia madre mi ha comprato il telefono di 1000 euro. E c'è ma tu lo sai che mio padre mi ha comprato il tablet di 1500 euro. E c'è ma tu lo sai che mio zio quando faccio 40 anni mi ha accattato la macchina di 40.000 euro. E c'è ma tu lo sai che papà mi ha dato 20 euro e ti portano pure un resto. E' il top, è il top, è il top. Vabbè qualche domanda, qualche domanda. Tu segui Vicenza a Sacchetti? A volte sì. Lo seguo su TikTok. È molto simpatico. Molto simpatico. Fa ridere. Rappresenta un po' tutti noi praticamente. E io vi ringrazio. Ecco qua un altro grande lavoratore. Ciao Vincenzo. Allora sì. Come è che sta Sacchetta ci dicono? Siamo soddisfatti di avverti conosciuto. E' stato un grande peggio. Veramente che merita tanto. E possiamo confermare che veramente sei un grande lavoratore e che fino alle sette e mezza di sera ti siamo venuti a trovare lì dove c'è l'azienda. Ma come no? Quindi il tuo successo sia avvenuto veramente attraverso l'umiltà. Non attraverso altre strade. S'ha da sempre faticato. S'ha da sempre faticato. Io sono stato sempre il primo a lavorare e continuo a lavorare. Perché è molto importante il lavoro. E ringrazio tutti voi che credete in me. C'è un'altra domanda. Infatti i miei due personaggi che faccio i miei complimenti. Sei tu, Vincenzo a Sacchetti e lo spazzino ballerino. Eh lo spazzino ballerino. Mi piace anche lui, piace anche lui. Fate una collaborazione con lo spazzino ballerino. Le sacchette, scambio di sacchette. È forte, è forte. C'è un'altra domanda. Ciao Vincenzo, solo di essere impopolare. Ma tu hai un piano B se in caso tutto questo desse finire? Eh lavoro, lavoro. A parte quello? Hai un piano B? No, sto valutando varie situazioni perché mi devo divertire. Mi devo divertire anche su, non solo sui social, però mi vogliono far fare anche qualche programma televisivo. Non lo so. Non lo so. Valutiamo. Le ragazze che sono arrivate da Napoli. Un'attrice, due attrici, oppure due frecidi. Un'attrice. Prego. Ciao Vincenzo. Buonasera. Vorrei sapere come è nata questa tua voglia di fare i TikTok. E ci stanno usando un sacco di cibo perché non lo ha già favorito a stronzare. È giusto. Ma per poi raggiungere uno scopo? Cioè appunto arrivare alla tradizione? No, una cosa per scherzare, per divertimento e tu devi calcolare che dopo il video della Meloni si è aperto il mondo. E perché non provare? E mi venite in capo di fare questa cosa e ogni giorno continuavo a prendere in giro i politici e poi sono arrivato a tutti praticamente. Perché come voi sapete oggi basta fare un video su TikTok e ti si apre un mondo. Cioè non ti aspetti. Io la mattina dopo, la mattina dopo i video con la Meloni, avevo 50.000 follower. Io la sera stavo a zero, 50.000. E dopo Bonolis non ne parliamo. È successo un casino. Cioè a gente che mi chiamava. E dopo stasera altri 50.000. Eh, va bene. Ma anche l'intervista che abbiamo fatto con lui. Quasi un milione di visualizzazioni. Quale un milione di visualizzazioni? Eh. All'improvviso ce la siamo inventata. Ma non capisci niente tu? È ticc-toc. Va bene, comunque allora. Io continuo a fare questa cosa perché mi piace. Cioè è nata questa cosa e la continuo a fare. Ok, allora un gramma in bocca al lupo. La ringrazio, la ringrazio. Sempre in forma. Ok. Qualcun'altra? Le ragazze laggiù. Stringi un po' qui? Vai, vai. Siamo un po'. Eh? Vieni alla luce, vieni alla luce. No, non la vogliono fare. State troppo all'oscuro. Troppo all'oscuro. Eh, vieni più alla luce perché lì siamo oscuri. Tutti domandieri. Sì. I curiosi, i curiosi. Tutti curiosi, ma? Volevo sapere se prima di fare TikTok avevi già fatto teatro o qualcosa del genere. No, 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 no. È stato tutto dopo, cioè, dopo TikTok mi hanno invitato al Peppy Night sul canale 21, poi iniziato a fare serate, a maggio, giugno. Cioè, tutto questo è stato in un anno, in un annetto e tu devi calcolare che dopo Peppy Night poi c'è stata la chiamata, questa ve la devo raccontare con il provino, questa è bellissima. Posso? Sì, sì. Praticamente, mi chiamano un produttore media, se ti dice, Vicenza sa che, noi ti vogliamo a Ciao Darwin, ma, però devi venire a Napoli a fare il provino. Io non mi asciuto mai al mattino, cioè, se fa sette e mezza, otto, che la mattina se mi asciuto alle sei e mezza, il tattuzzo là vicino lì ha detto papà, papà dai che dobbiamo andare a Napoli, dai che dobbiamo andare a Napoli. E mio padre diceva, ma a che ora devi andare? Alle nove e mezza. Diceva mio padre, quella ci vuole un'ora per arrivare, ma che stai facendo? Fammi dormire. Va bene, alle otto e mezza partiamo da Roccamofino. Alle nove e mezza stavamo a Napoli, allora facevano tra sé solo un bello guaggione, cose, ma poi, io entrai a Luna, i sette che facevo provino, cioè, tu già sei a Roma, i sette che cazzo mi ha fatto venire a fare? Allora, quello là, quello là comunque rideva in una continuazione, poi mi fecero le domande sulla mia vita. E io, quello là rideva da solo, i sette, ma tu ti ragazzi, e tu devi calcolare che, io andai a fare il provino a febbraio, e Bonolis già mi cercava dal mese di gennaio. A maggio andammo a registrare e mi fecero andare a spazio nel tempo, perché le puntate che sono andate in onda ora, l'8 dicembre, le abbiamo registrate l'11 maggio. Eh, su TikTok. C'è una domanda qua, c'è una domanda qua. Siamo a livello di TikTok, Sam. C'è la scuola New Compact System, devi sapere che noi abbiamo tante scuole di arti marziali a Montragone. Stasera ce n'è una in particolare, il maestro Carmine Di Vivo, che saluto. Gli allievi, gli allievi, c'è una domanda che i giovani vogliono. Vabbè, non fa niente. Più che una domanda e un'affermazione, ci farebbe molto piacere se ci venissi a trovare in palestra. E come no, come no. Prendiamo questo impegno. Ai siamo qualche piso. Va bene, va bene. Visto che non hai trovo, che capisci. Ti aspettiamo, ti aspettiamo tutti. Alziamo qualche peso in più, va bene, va bene. Va bene, ti aspettiamo. È un grande piacere. Ci devi andare però. Ragazzi, è stato un grande piacere. Vi aspetto nel mio spettacolo pausa pranzo. Ci stanno chiamando dappertutto, corrite cose, poi vi terrò aggiornati sui social. Perfetto, ok. Grazie a te per questa meraviglia. Parliamo insieme stasera ha colto il senso del titolo di questa trasmissione. Ne abbiamo parlato insieme. Ecco tutto, il pubblico è stato bello. Ne abbiamo parlato. Siamo stati, grazie a te. Ringraziamo Massimiliano De Lise che ti ha fatto la domanda. Lui è il titolare del teatro. Titolare, sì, ci siamo salutati. Il teatro, qua c'è venuto Peppe Iodice, recentemente, Biagio Izzo. Qua vengono tanti, tanti grandi nomi. È venuto pure... E mostra pure Vicenza a sacchetti. È stato un grande piacere. Grazie. Vaglio, io via con una buona serata. E che dire, continueremo su questa meravigliosa strada. Grazie. Sì, ora facciamo una bella foto. Faciteci uno servo. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.